Capitolo 4. Il colloquio di lavoro. Alcuni consigli. Alcuni segreti per presentarsi al colloquio, ma nei colloqui è necessario assolutamente prepararsi prima. Ci sono alcune domande di rito a cui dovete rispondere quasi sempre, quasi ad ogni colloquio, indipendentemente dall'azienda o dal selezionatore che vi sta per colloquiare. Per esempio, alcune delle domande potrebbero essere Perché lei ha scelto questo percorso di studi? Con quale prospettive professionali? Addirittura potrebbero chiedervi se è il vostro caso, per quale motivo avete interrotto gli studi. Cosa si aspetta dal mondo del lavoro o da questo lavoro? Che tipi di ambizioni ha? Come si vede, tra qualche anno, descriva il suo carattere con pochi aggettivi, includendo anche un difetto. Come affronta gli imprevisti e come gestisce lo stress? Mi faccia un esempio di un suo successo, oppure di un insuccesso, di un momento critico in cui si è gestito uno stress particolare? Quali sono i suoi interessi? Queste potrebbero essere alcune domande. Vale la pena quindi, una volta redatto il nostro curriculum, fatto un'analisi dello stesso e preparata la lettera di presentazione, prepararsi a rispondere anche a queste possibili domande. Dosare bene gli ingredienti della nostra comunicazione Durante un colloquio ci si presenta puntuali e si cerca di mantenere una certa calma. Ovvio, in palio c'è un'offerta di lavoro e quindi potremo essere emozionati, ma dobbiamo cercare di dosare bene gli ingredienti della comunicazione, Ovvero, la componente verbale, quanto parliamo e come parliamo, è una cosa estremamente importante. La componente non verbale, quanto gesticoliamo e quanto ci muoviamo, a seconda anche delle domande che ci vengono fatte. La componente paraverbale, ovvero il tono della voce, ad esempio, la prossemica, quanto siamo vicini al selezionatore, quanto ci allontaniamo. Di solito è stimato che la componente non verbale è quella che predomina nei colloqui di selezione e che pesa per un 55% e che un selezionatore esperto sa anche riconoscere. A seconda dei nostri movimenti, il selezionatore riesce a capire se siamo emozionati, se stiamo dicendo la verità, se stiamo dicendo una bugia o se siamo troppo sicuri di noi stessi o indecisi. La componente paraverbale, anche quella, pesa per un 38% e dobbiamo cercare di avere il tono giusto durante la conversazione. Il linguaggio, ovviamente, pesa in minore parte e tuttavia sicuramente l'avremo preparato prima. Contonne il colloquio è fondamentale. Ad esempio, se nella vita di ogni giorno siete come nell'immagine che vedete, non è detto che dovete completamente trasformarvi per un colloquio, perché dovete sempre dimostrare di essere voi stessi. Tuttavia, ad un colloquio potreste presentarvi come nell'immagine che segue, ovvero, la cosa fondamentale, oltre all'essere puntuali e l'essere cortesi ed educati, è anche sapersi presentare, quantomeno in maniera che sia adeguata al contesto nel quale ci stiamo presentando. Ricordarsi sempre, in generale, che il nostro apprendimento è continuo. Chi non si forma si ferma e che, quindi, il nostro curriculum deve essere sempre aggiornato di nuove esperienze e di nuovi corsi di formazione. E anche quando avremo trovato lavoro, la formazione è una formazione continua. Dobbiamo cercare di valorizzare le nostre conoscenze e competenze, anche quelle acquisite in contesti diversi, in contesti formali, come la scuola e l'università, in contesti informali, come il lavoro, in contesti non formali, come in famiglia e nel volontariato. Tutto quello che abbiamo appreso deve essere messo in risalto se è fondamentale per candidarsi per quell'offerta. È fondamentale essere aiutati nelle scelte. Esistono dei sistemi per essere orientati. Da chi mi posso fare aiutare? Al centro per l'impiego potrete trovare alcune delle informazioni. Gli enti bilaterali sono altri soggetti che si occupano di orientamento alle scelte nei settori. In particolare, l'ente bilaterale del turismo toscano si occupa di orientamento professionale alle scelte nel settore turismo. Autoconsapevolezza. Dobbiamo sviluppare una consapevolezza di quali sono le nostre conoscenze, competenze e abilità, di quali sono i nostri limiti, di quali sono le nostre aspettative, di quali sono le nostre potenzialità e di che cosa ci manca per raggiungere l'obiettivo, per far sì che ci possiamo porre degli obiettivi che siano realizzabili. Facciamo sempre quindi una nostra autoanalisi, un bilancio. Se necessario, facciamoci aiutare da dei professionisti per sapere quali sono i prossimi step per migliorare il nostro profilo e per aiutarci in una crescita professionale. Il corso termina. Ricordatevi di eseguire il test finale. Ed ora puoi rivedere il video se vuoi ripassare alcuni concetti. Oppure puoi andare al test finale. Superato il test finale, potrai richiedere l'attestato. L'attestato verrà rilasciato dall'ente bilaterale Turismo Toscano. Se sei un etente registrato nel portale turismolavoro.it di Ente Bilaterale Turismo Toscano, la tua formazione verrà registrata nel tuo profilo e riceverai un marchio di qualità e BTT. Potrai quindi stampare il tuo curriculum con quel marchio. Buon proseguimento!